Troppo forte il Tavagnacco per la Grifo Perugia. Alla prima uscita in campionato le Grifoncelle si sono ritrovate di fronte uno degli avversari più quotati, che non ha avuto difficoltà nel conquistare l'intera posta in palio. Una gara dal risultato scontato e praticamente a senso unico dal punto di vista tattico. La squadra di Sciurpa ha provato quantomeno a giocare di rimessa, ma nel primo tempo non ha trovato lo spunto vincente e nella ripresa, oltre che con le Friulane, ha dovuto fare i conti con il campo pesante. Il Tavagnacco ha aperto le marcature al quinto con un bel colpo di testa della Camporese assistita da Bischi che ha colto in contropiede la Cucchiarini. Circa dieci minuti dopo è arrivato il raddoppio e ancora Camporese a raccogliere un bel invito della Vicchiarello dopo una stupenda azione personale della stessa sulla destra. Terzo timbro delle ospiti al 35esimo su calcio di rigore realizzato da Parisi per una vistosa trattenuta in area della Saravalle. Nel finale di frazione la grifa è uscita dal guscio con una grande azione personale della Marinelli che però non è riuscita a concretizzare sola contro il portiere. Nella ripresa il Tavagnacco ha colpito ancora nei minuti iniziali, al secondo per la precisione con un fortunato tiro della Vicchiarello. Sul 4-0 la partita si è fatta decisamente meno entusiasmante, le friulane hanno rallentato i ritmi limitandosi, si fa per dire, a mettere a segno altre due reti. La prima al ventitresimo con la neo entrata Zan Domenichini che ha capitalizzato un cross dalla sinistra del capitano Bromura. La seconda al trentasettesimo con un tiro dalla distanza della Parisi che ha firmato così la doppietta personale. Risultato rotondo e mai in discussione ma forse troppo pesante per un agrifo che comunque ci ha messo il giusto impegno. Queste non sono le partite che servono per la salvezza però sono le partite che servono per crescere e quindi portiamo a casa un 6-0 che normalmente è un risultato esagerato che effettivamente doveva essere sicuramente minore. Io mi aspettavo qualcosa di meglio ma una partita un po' è nata male perché abbiamo presso gol i primi minuti, ci siamo scoraggiati, magari se riuscivamo a tenere un po' di più il risultato non sarebbe stato così ampio. Però in ogni caso le ragazze sono cresciute con questa partita e io ho comunque fiducia per il futuro. Noi sapevamo benissimo di affrontare una squadra di un'altra categoria diciamo così quindi il nostro intento era quello di poter arrivare fino alla fine, di lottare fino alla fine e di poter creare qualcosa in più. Io credo che data l'esperienza dell'anno scorso quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più, potevamo tranquillamente prendere due o tre gol in meno dovuto un po' a disattenzioni, un po' anche alla parola dell'abbiazzare questo ci sta, però insomma abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto carattere, abbiamo avuto anche la pioggia che non ci ha dato tregua, quindi credo che pur nella realtà del risultato noi oggi non possiamo guardare il risultato, ma dobbiamo guardare quello che la squadra ha fatto di buono e credo che di buono ce n'è molto. L'approccio alla partita è stato buono da parte delle mie ragazze, avevo chiesto questo e avevo chiesto anche di dare intensità subito alla gara perché questa era sicuramente una gara di campionato, però noi dovevamo pensare anche al futuro, quindi alle partite che devono venire adesso, in cui siamo impegnati nella Champions e anche in campionato, quindi avevo chiesto di avere subito un approccio molto positivo, un approccio con molta intensità e questo poi dopo è stato, anche se nel secondo tempo un pochino abbiamo calato i ritmi.